Benvenuti o bentornati nel mio canale, questo è il primo video di una nuova playlist che ho intenzione di creare riguarda due mondi diversi come lo strumento software di programmazione, l'Abibio, il linguaggio grafico della National Instruments con una scheda Arduino. Vedremo come far comunicare Arduino con l'Abibio mediante la porta seriale del PC possiamo quindi inviare dati ad Arduino o ricevere dati da Arduino, quindi abbiamo questa possibilità vedremo come fare. Ci sono due diversi metodi, andiamo a vedere quali. Innanzitutto vogliamo dire che come abbiamo visto l'Abibio consente di comunicare con strumenti e dispositivi attraverso la porta seriale, ad esempio in questo caso vedremo utilizzando Arduino. Arduino si comporterà quindi come una scheda di acquisizione dati, una DAC invece di usare una DAC della National possiamo utilizzare semplicemente una scheda Arduino, Uno o Mega, quello che volete in modo da inviare all'Abibio i valori, i risultati ottenuti attraverso Arduino. Oppure possiamo comandare la scheda Arduino mediante l'Abibio. Ma come possiamo fare tutto questo, collegare via seriale facendolo per via seriale per mezzo di l'Abibio? Per fare questo dobbiamo creare un protocollo di operazione per così dire, per poter comunicare con la porta seriale. Sono necessarie le seguenti operazioni indispensabili. l'apertura della porta seriale per la comunicazione, poi la scrittura sulla porta seriale se mandiamo dei dati o la lettura della porta seriale se riceviamo dei dati. Infine la porta seriale deve essere chiusa. La comunicazione può essere fatta semplicemente con gli strumenti Visa senza bisogno di nessun altro toolkit della National Instrument oppure utilizzando un toolkit sempre della National Instrument che ci mette a disposizione quale ad esempio il LINX. Se utilizziamo come strumenti di comunicazione i Visa, o se Visa non è altro che l'acronimo del Virtual Instrument Software Architecture. E non è altro che un insieme di librerie già pronte e preparate dalla National Instruments e fanno parte del menu standard del linguaggio di programmazione l'Abivio e sono standardizzate proprio per la comunicazione con dispositivi che si collegano al computer tramite numerosi canali di comunicazione. Possiamo comunicare via seriale, con la porta USB, con la GPIB e così via. Andiamo avanti. Se utilizziamo gli strumenti messi a disposizione dal software e gli strumenti Visa li possiamo trovare nel nostro menu Instruments.io e troviamo GPIB, seriale, Visa. Usiamo la Visa. All'interno della cartella Visa troviamo tutto quello che ci serve. Io ho messo solo i quattro componenti principali ma ovviamente ce ne sono molti altri. Questo qui è il programmino già pronto per aprire il Visa, per scrivere, per leggere e per chiudere. Se utilizziamo questo via attraverso il Visa dobbiamo crearci ovviamente sull'Abivio un pannello frontale. Se volessimo ad esempio comunicare con Arduino per accendere un LED attraverso il nostro pulsante o attraverso questo interruttore accendere l'LED che è presente nel pannello frontale di l'Abivio in tutto ciò abbiamo bisogno di scrivere il nostro sketch, il nostro programma su Arduino se utilizziamo gli strumenti Visa. Allora ci dov'è il vantaggio? Vedremo vantaggi e svantaggi andando avanti. Passiamo all'altra slide. Se invece utilizziamo il toolkit links della National Instruments dobbiamo prima fare in modo di caricare questo toolkit all'interno del nostro programma, nel nostro menu di l'Abivio. Vedremo poi come fare nel proseguo dei prossimi video. Una volta che abbiamo caricato, per poter dire installato il nostro toolkit all'interno di l'Abivio, troveremo il Maker Hub con la nostra cartella links, dove potremo trovare seriale che serve per aprire la porta, digital read, cioè per la lettura, digital write, per scrivere sulla porta, e la chiusura del nostro canale. Ovviamente insieme a moltissimi altri strumenti da utilizzare. Il programma, se vogliamo realizzare lo stesso programma non dobbiamo fare altro che crearci un pannello frontale, un booleano, un led e un pulsante, collegare la nostra scheda Arduino con la nostra breadboard nella stessa identica maniera, ma voilà, non c'è bisogno di scrivere nessun programma. Quindi questo qui è, per così dire, il vantaggio di usare il links, se non lo utilizziamo Arduino, se non lo sappiamo programmare, nessun problema. Vediamo adesso, andando direttamente sull'Abivio, non come caricare il links, ma cosa trovo all'interno dei links. Nel nostro ambiente di lavoro di programmazione di Labivio abbiamo il pannello frontale e il nostro diagramma a blocchi. Vado ad aprire il diagramma a blocchi perché per adesso ci serve semplicemente questo per vedere i nostri menu. Tasto destro, vado a cercare i componenti degli Instruments I.O. Ecco qua mi trovo la cartella Revisa e trovo Scrivi sulla porta seriale, Leggi dalla porta seriale, altri strumenti, Advanced, Apri la porta seriale, Chiudi la porta seriale ed altri componenti. Per quanto riguarda invece l'utilizzo del nostro Tools, se l'abbiamo ovviamente caricato, vedete io ne ho due, c'ho uno che si chiama Arduino, dove mi trovo Inizializzazione, e chiudi la porta seriale e poi altre cose, ma per adesso non ne parliamo perché sto parlando del Maker Hub. Sul Maker Hub mi trovo, sul menu Maker Hub mi trovo il Links, all'interno del Links trovo Apri la porta seriale e chiudi la porta seriale. Per quanto riguarda Scrivi sulla porta o Leggi dalla porta, le trovo su Periferiche, perché posso leggere e scrivere verso un segnale analogico, o da un segnale analogico, Write, Read, oppure da un segnale digitale. Da un segnale digitale. Il Maker Hub contiene altri, altri interessanti utility. Nella cartella Sensori abbiamo la cartella degli accelerometri per poter comunicare con un sensore, un accelerometro ADX L345, apri, chiudi il canale, apri, leggi, chiudi il canale, così come per altri accelerometri. Non vado a vederli tutti, ad esempio per quanto riguarda il sensore di distanza, un sensore ultrasonico, andiamo solo a leggere, e abbiamo anche ovviamente i LED, per fare, apri e via la RGB, oppure per quanto riguarda i LED, i lights, apri, scrivi, chiudi, refresh, e così via. Anche sensori di temperatura, e quant'altro. abbiamo anche le utility, per quanto riguarda le utility, vedete che ci sono diversi blocchetti pronti all'utilizzo. Ritorno alle due finestre. Bene, con questo video ho concluso, era la parte introduttiva per vedere in che modo possiamo comunicare con due metodi diversi. Nel prossimo video vedremo, ci occuperemo semplicemente, ci occuperemo del menu Visa e successivamente andremo a vedere in che modo possiamo caricare tra virgolette tra virgolette il toolkit di links nel menu di Arduino con il nostro Nicherab. Vi ringrazio nuovamente per la visione, spero che sia stato di vostro gradimento, se lo è stato iscrivetevi al canale dove potrete trovare moltissimi altri argomenti con moltissime previste riguardanti molti argomenti. Quindi vi auguro una buona continuazione con i vostri studi, con la vostra navigazione YouTube e arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.